Una serie di eventi ed iniziative per informare le donne sull'importanza dei controlli preventivi e visitarle gratuitamente. Anche quest'anno torna la campagna nastrorosa indetta dalla Lilt e la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e finalizzata alla sensibilizzazione per la prevenzione dell'insorgenza del tumore al seno. Il numero di donne colpite dal carcinoma mammario è aumentato nell'ultimo anno anche per l'estensione dei programmi di screening che consentono di individuare i tumori in fase iniziale. E questo permette che la sopravvivenza a 5 anni dalla prima diagnosi sia dell'80%, si arriva al 92% se si considerano solo le under 55. Il Comune di Latina ha aderito all'iniziativa e per tutto il mese di ottobre l'orologio della Torre Civica di Piazza del Popolo sarà illuminato di rosa per ricordare alle donne l'importanza della prevenzione. Sul territorio pontino il programma dell'Ottobre Rosa 2019 viene sviluppato dalla Lilt Provinciale in collaborazione con l'Asola di Latina e il Polo Pontino dell'Università La Sapienza di Roma. Fare prevenzione oggi, ha commentato il sindaco Damiano Coletta, è un passaggio fondamentale, il primo nella lotta ai tumori e in particolare al cancro al seno. Il mese di ottobre, come ogni anno, rappresenta un periodo di stimolo da un punto di vista comunicativo nella diffusione della cultura della prevenzione e come Comune siamo orgogliosi di poter dare anche un solo piccolo segnale accendendo simbolicamente un presidio rosa nel cuore della nostra città.